Buongiorno bambini e buon ascolto. Laura, volontaria della Biblioteca di Baggio, legge per il Carosello delle Favole una storia scritta da lei. L'elefante dalla proboscide troppo corta. È troppo lungo il tuo muso? O è troppo corta la tua proboscide? Sei un maiale dal muso lungo? O un elefante dalla proboscide corta? Così i ragazzi canzonavano un elefante che in effetti aveva la proboscide un po' corta. Lui era già triste per conto suo e ancora di più quando sentiva quel ritornello per prenderlo in giro. Moriva di vergogna e appena si avvicinava qualcuno si nascondeva. Giorno e notte pensava a come risolvere il problema della sua proboscide e chiese come poteva fare alla sua amica giraffa che gli disse Prova ad attaccarla a un ramo robusto e sollevandoti da terra vedrai che il tuo peso l'allungherà. L'elefante si attaccò ad un grosso ramo e andando su e giù la proboscide un po' si allungava ma a un certo punto un grande scricchiolio annunciò che il ramo si spezzava e lui cadde a terra facendosi molto male. Ai che dolore! Ma appena si sentì meglio pensò e ripensò di nuovo a come allungare quel naso troppo corto. Un giorno vide arrivare sulla strada una macchina schiaccia sassi e subito si mise a pancia in giù con la proboscide di traverso alla strada così sotto la schiaccia sassi si sarebbe certamente allungata. Fu un dolore terribile e la proboscide restò incollata a terra come un cartone bagnato. Per fortuna la proboscide piano piano riprese la sua forma ma sempre corta era. L'elefante era così disperato che si mise a piangere e si disse che non avrebbe fatto più niente per cambiare il suo naso. Quando però risentì quell'odioso ritornello canzonatorio ricominciò a pensare a come risolvere il suo problema. Trovato! Farò come Pinocchio gridò esultante e cominciò a dire un sacco di bugie così grosse ma così grosse che la proboscide doveva per forza allungarsi come il naso di Pinocchio. Ma non fu così. Allora sconfitto il povero elefante si ritirò nel bosco lontano da tutti per non farsi più vedere da nessuno e lì si nascose a vivere tutto solo. Un giorno scoppiò un incendio terribile nella savana e allora l'elefante diede prova di tutto il suo coraggio corso ad un laghetto e con la sua piccola proboscide aspirò tutta l'acqua che poteva spruzzandola sugli alberi. Continuò a farlo decine e decine di volte finché l'incendio fu spento. Stanco per la fatica quando andò a bere al laghetto specchiandosi vide che la sua proboscide era diventata lunga e forte come non avrebbe mai sognato. La sua generosità e il suo coraggio avevano fatto quel miracolo o forse era solo un miraggio. In ogni caso da quel giorno l'elefante tornò a vivere felice insieme a tutti gli altri animali pentito di essersi così tanto vergognato di un piccolo difetto. Grazie per la visione! Grazie per la visione!